Aspettando Vinitaly 2020, il 23 novembre scorso, negli spazi di 311 Verona, abbiamo approfondito con Flavio Innocenzi, direttore commerciale di Verona Fiere, cosa implica l'organizzazione di una manifestazione fieristica per il territorio. Durante la lezione di comunicazione e strategia aziendale, il direttore ha parlato anche del nuovo orizzonte verso cui sono proiettati, la Cina. Questa è la nuova frontiera, l'orizzonte che ci siamo dati nel medio termine. Dopo aver approcciato il mercato sudamericano nel 2018 con una manifestazione come Wine South America, che oggi è la più importante nel continente latinoamericano, lanciamo adesso Wine to Asia, quindi una fiera internazionale che riunisce non solo aziende produttrici italiane, ma anche aziende di tutto il mondo, quindi il resto dell'Europa, cinesi ed il resto del mondo, Cile, Australia, Nuova Zelanda, per incontrare operatori professionali provenienti da tutta l'Asia. Questa è la nuova sfida di Verona Fiere nel 2020 in Cina tramite una nuova società che abbiamo fatto in joint venture con il nostro partner cinese, Paco Communication, con cui lavoriamo da alcuni anni in maniera molto proficua. Quindi fare fiere per noi nel settore del vino è un mestiere abbastanza complesso, nel senso che noi promuoviamo e siamo parte di un sistema, organizziamo un vero e proprio sistema, fatto di varie manifestazioni fieristiche mirate a promuovere la cultura del vino, cosa che facciamo non soltanto attraverso le fiere, ma attraverso una serie di strumenti come la Vinitaly International Academy, quindi strumenti di formazione, premio Five Star Wines, quindi un premio internazionale, e una serie di strumenti digitali molto evoluti, come la App, la Directory, in un'ottica digitale, globale, per la promozione della cultura del vino. Grazie a tutti.